Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Sono felice di trovarmi qui nella più grande moschea dell'Asia, insieme a tutti voi. Saluto il grande Eman e lo ringrazio per le parole che mi ha rivolto, ricordando che questo luogo di culto e di preghiera è anche una grande casa per l'umanità, in cui ciascuno può entrare per fermarsi con sé stesso, per dare spazio a quell'anellito di infinito che porta nel cuore, per cercare l'incontro con il Divino e vivere la gioia dell'amicizia con gli altri. Mi piace ricordare che questa moschea è stata progettata dall'architetto Fredo Silaban, che era cristiano, e si aggiudicò la vittoria del concorso. Ci attesta che nella storia di questa nazione e nella cultura che vi si risperia, la moschea, come anche gli altri luoghi di culto, sono spazi di dialogo, spazi di rispetto reciproco, spazi di armonica convivenza tra le religioni e le diverse sensibilità spirituali. Questo è un grande dono che ogni giorno siete chiamati a coltivare, perché l'esperienza religiosa sia appunto di riferimento di una società fraterna, pacifica, e mai motivo di chiusura o scontro. Grazie a tutti. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti